Ciao Fragoline! Nuovo video! Allora, come leggete dal titolo, voglio farvi vedere il mio metodo, che sono due metodi per asciugare i capelli in estate. Ok che questo video lo vedete a settembre, ormai l'estate è quasi finita, ma dato che riesco solo a farlo adesso, allora ve lo pubblico a settembre lo stesso, così almeno per la prossima volta, il prossimo anno sapete come asciugare i capelli, praticamente veloce. Allora, i miei metodi sono due, però prima di farvi vedere vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like, un commentino qua sotto e mi fate sapere come le asciugate voi e dei metodi veloci per asciugare i capelli. Io sto parlando dei capelli lunghi, perché quelli corti ci vogliono poco per asciugare, e se volete seguirmi su Instagram, che lì pubblico sempre tutto ogni giorno su quello che faccio nella mia vita. Detto questo, iniziamo e vi faccio vedere i due metodi per asciugare i capelli lunghi, quindi praticamente questi, che come me ce li allunghi, vi faccio vedere come si asciugano in poco tempo. Allora, il primo metodo è questa spazzola che fa da lisciante, fa piega e ovviamente ti asciuga i capelli in neanche 5 minuti, anche di meno di 5 minuti. Ovviamente ho fatto qualche clip, per cui vi faccio vedere le clip. Il primo metodo per asciugare i capelli è questo, prendere la spazzola, praticamente, fono, si chiama spazzola fono, spazzola lisciante, dove voi in 2-3 minuti, massimo 5 minuti, non di più, vi asciuga i capelli con una semplice passata. L'accendete, non c'è bisogno di riscaldarla perché questa qua si riscalda in 2 secondi, ha 4 semplici, diciamo, l'accensione, potete regolarla se volete farla più veloce, più lenta, meno forte, io la faccio sempre più veloce, così riuscite ad asciugare i capelli in un minuto, neanche. Con una sola semplice passata, quando avete acceso la spazzola, basta solo partire da sopra e andare in giù. In 2 secondi, come vedete dalla clip, praticamente vi asciuga subito la lunghezza del capello. Questa è semplice da utilizzare e vi assicuro, quando io l'ho comprata, che l'ho comprata su Amazon, ho speso, se non mi sbaglio, 30 euro, anche meno di 30 euro sui 25. Vi assicuro che quando ho questa, in estate è una bomba, perché dopo 2 secondi che voi avete fretta e non sapete come asciugare i capelli, perché il fono ci vuole un po' per asciugare i capelli lunghi, con questa in 2 minuti vi asciuga tutto il capello. Per cui, io vi consiglio anche questa, ovviamente l'ho pagata io, non è una sponsorizzazione. Con questo metodo di 2 minuti vi assicuro che il capello è asciutto e in più vi assicuro che avete i capelli lisci e non tipo da leone o mossi, eccetera. Con questa vi fa i capelli lisci. Per cui questa spazzola fa due metodi, lisciante e asciuga i capelli. Se volete potete farla anche mossi, un po' mossi ve le farò anche. Questa è il metodo, il primo metodo, quando io asciugo i capelli veloce. Calcolate appunto che i miei capelli sono lunghi, per cui vi assicuro che avere i capelli lunghi non è facile perché devi stare anche lì ad asciugare. Anche in inverno, ad esempio, io in inverno ci metto tanto a asciugare i capelli. I miei capelli sono lunghi e giustamente ci vuole il suo tempo per asciugare, per cui almeno più di 10 minuti io ci metto solo col fono. Invece con questa spazzola, anche in inverno, vi assicuro che in poco tempo i capelli sono già asciutti. Passiamo al secondo metodo. Allora, ok che forse il secondo metodo non è velocissimo, perché di sicuro sotto i commenti mi dite ma questo metodo non è veloce per asciugare i capelli. Ma secondo me sì. Allora, perché? Vi spiego. Se non avete fretta, che non dovete uscire, vi assicuro che non è adatto per chi ha fretta e deve uscire. Ma se uno vuole usare il fono, perché fa caldo e ovviamente dite no come faccio io, no, io non voglio usare il fono, anche per risparmiare corrente. Cosa usate? Niente, basta usare questo, l'asciugamano per i capelli che voi arrotolate sui capelli. Questo asciugamano l'ho preso alla Declaton, costa 4 euro se non mi sbaglio. È una bomba anche questo. Per quello che vi dicevo, se non dovete scappare, andare a lavorare, aver fretta, con questo vi risolve il problema, così non dovete usare il fono. Ripeto che non sto sponsorizzando, non sto facendo pubblicità, perché sembra un video di pubblicità su due cose. Per cui no, non è una pubblicità, ma voglio farvi, diciamo, far vedere ovviamente questi metodi qua, come li asciugo i capelli veloce in estate. Questo asciugamano vi aiuta perché lo mettete in testa, adesso vi faccio vedere la clip, dove potete, diciamo, arrotolare i capelli, perché ha una forma lunga, per cui se vedete, dato che è la forma lunga, lo mettete in testa. Con la testa in giù, perché su non riesci, con la testa in giù, mettete su l'asciugamano in testa, prendete i capelli e piano piano li mettete dentro nell'asciugamano e con questo metodo lo girate e in poche parole andate a richiudere i capelli. Calcolate che, non usando il fono, io con questo asciugamano ci metto un'oretta, dipende se fa tanto caldo, eccetera, per cui più o meno un'orettina, anche di più, dipende dai vostri capelli. Vi dico anche di tamponare i capelli su in alto, perché così almeno si asciugano più veloce. Io uso questo metodo anche quando non voglio usare il fono, perché fa troppo caldo, oppure dico, no, per fare più veloce che muoio di caldo, uso l'asciugamano, così non muoio di caldo usando il fono. Non è un metodo veloce, perché ci vuole almeno un'oretta, dipende dai vostri capelli, però vi assicuro che risparmiate elettricità e in più non avete caldo usando il fono. Se avete fretta che siete di corsa, io vi ricordo e vi consiglio di usare la spazzola, questa qua, che fa anche da fono, in poche parole. Con questa avete speso i soldi come si deve, ma vi asciuga i capelli in poco tempo. Se invece, appunto, non siete di fretta, secondo me l'asciugamano è ottimo e non consumate veramente elettricità. Io faccio così, questi sono i miei due metodi per asciugare i capelli. Se avete domande o se riesco a trovare altri metodi per asciugare i capelli lunghi, perché ovviamente per quelli che hanno i capelli corti è più facile, cioè voi prendete il fono, due secondi, vi asciuga i capelli lunghi fino alle spalle, ma se ce l'avete dopo sotto le spalle, come i miei capelli che sono lunghi, vi assicuro che non è facile in inverno e in estate per asciugare i capelli lunghi, ci vuole molto, molto più tempo. Per cui, questi sono i miei due metodi. Se voi riconoscete altri metodi per asciugare i capelli più veloce, scrivetelo qui sotto. Scrivetemi sotto se questi due metodi vi piacciono e se volete provare anche voi a fare questi due metodi per asciugare i capelli. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e fatemi sapere se ne volete altri, come ovviamente un altro video su altri metodi di altre cose, fatemelo qua sapere sotto nei commenti. Il video finisce qua. Detto questo, spero che vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e al prossimo video!